Buon pomeriggio, prima corsa premio Chieti, un miglio per femmine di tre anni, sono in 7 al via con l'uno Megan Griff, il due Melita, il tre My Lady Gale, il quattro Matala Scagnasi, il cinque Muriel's Cage, il sei Mondiale del Rio, il sette Marianne Dulac Di galoppo, prima del via, proprio Marianne Dulac Già prima dello stacco sta emergendo Matala Scagnasi, impegnata all'esterno da Muriel's Cage, mentre il Mondiale del Rio cerca di guadagnare la terza posizione scavalcando Melita, operazione che riesce Quinta è la favorita Megan Griff che però muove subito all'esterno lasciando in coda My Lady Gale e Marianne Dulac rimessa Muriel's Cage anticipa Megan Griff e va decisa a chiedere strada a Matala Scagnasi dopo un primo quarto Abbastanza lento, in più di 31, Muriel's Cage Nuova battistrada all'esterno Megan Griff che va decisa ad impegnarla, poi Matala Scagnasi quindi Mondiale del Rio, Melita, My Lady Gale e Marianne Dulac Insiste Megan Griff Ma Muriel's Cage si oppone Le due in lotta Frazione decisamente veloce che porta il mezzo miglio iniziale sul piede dell'1.16 appena abbondante con Muriel's Cage e Megan Griff in lotta davanti a Matala Scagnasi più indietro Mondiale del Rio Ancora una frazione volenta per un primo giro da 1.15.4 con Megan Griff che però sta liquidando Muriel's Cage e passa a condurre ai 500 finali dove Matala Scagnasi si risposta in fuori all'esterno di Muriel's Cage più indietro Mondiale del Rio Megan Griff ha acquisito chiaro vantaggio su Muriel's Cage che si mantiene ancora in seconda posizione su Matala Scagnasi Mondiale del Rio e Marianne Dulac che ha recuperato Fila indiana all'inizio della retta di arrivo con Megan Griff in chiaro vantaggio su Muriel's Cage che si mantiene bene la sua scia Matala Scagnasi, Mondiale del Rio e Marianne Dulacca che sbaglia ancora Megan Griff in chiaro vantaggio su Muriel's Cage e Matala Scagnasi nel finale Megan Griff senza problemi per imporsi davanti a Muriel's Cage e Matala Scagnasi Rivediamo il finale con Megan Griff ed Enrico Bellè che ormai hanno avuto ragione di Muriel's Cage e si limitano a controllare la situazione in retta d'arrivo la Saura Davarenna va a cogliere la quarta vittoria della carriera al nuovo personale di 1-15-4 nei confronti della stessa ottima Muriel's Cage che precede Matala Scagnasi e Mondiale del Rio 1-5-4 l'arrivo ufficioso della prima di Tordivalle Grazie a tutti Grazie a tutti